Abbiamo strappato il vicepresidente della giunta regionale Marcello Pittella ai tanti impegni per la prima domenica di primarie per la scelta del candidato presidente all'interno del centro-sinistra. Tante sarebbero le premesse da fare ma cercheremo nel corso di questa intervista curata da Lucania TV e curata dall'Eco di Basilicata di evidenziare un pochettino tutti gli aspetti. Vicepresidente Pittella, a Lauria qualche secolo fa vi fu una grande contesa. I laurioti si opposero ad un esercito che appariva invincibile. Lei avverte questa idealità, questa nuova battaglia che è in procinto di svolgere? Io innanzitutto penso che non ci siano invincibili. Penso invece che con grande determinazione sulla scorta di programmi anche precisi, chiari, pochi punti e attraverso una politica del fare anche coraggiosa la battaglia si può sostenere, si può vincere. Soprattutto un messaggio di reazione, di ribellione a un metodo che non è a mio giudizio democratico ma quasi imposto, quasi per decreto, non solo per le candidature quando per la costruzione della gerarchia delle posizioni. Io penso che dobbiamo stare sulle primarie vere, dobbiamo stare sulla partecipazione dei cittadini e dobbiamo smetterla di fare giochi di palazzo fatti da tre persone che decidono la sorte di tutti. Ecco, Vicepresidente, prima di entrare nel merito, nei temi che sicuramente lei svilupperà nelle prossime settimane, ricordiamo che sarà una campagna lampo, nel senso che davvero ci saranno pochissimi giorni per lanciare delle problematiche e delle tematiche, ma è ancora tanta la curiosità intorno a quanto è avvenuto soprattutto negli ultimi giorni. Ricordiamo che le primarie saranno delle primarie aperte, quindi sicuramente sarà un momento elettorale aperto a tutti, però in questa fase, soprattutto in questa fase, c'è tanta curiosità, soprattutto dei dirigenti, dei simpatizzanti, che hanno visto nel giro di davvero di poche ore di cambiare completamente uno scenario. Ecco, dal punto di vista del Vicepresidente Pittella, cosa è successo nelle ultimissime ore che poi hanno portato alla sua candidatura, così come alla candidatura di La Corazza ed altre due candidature ancora che poi magari commenteremo? Ma ci sono stati due fattori essenzialmente. Il primo, una volontà ostinata a non dare voce, a mio giudizio, lo dico con modestia, al merito e a chi sostanzialmente ha retto una navigazione in mare aperto, anche incerta, in questi ultimi tempi. è una sorta di azione pregiudiziale che mirava in effetti a candidare altri a tutti i costi e necessariamente e a negare il confronto democratico all'interno di una coalizione aperto alla società tutta lucana. e poi una volontà a piegarmi in una logica e ad una logica di organizzazione quasi, organigrammatica, quasi a presentarci agli elettori con primarie false, come pure purtroppo siamo stati abituati negli ultimi tempi. Io sono per il viso scoperto, sono esattamente perché questi metodi non abbiano più a rappresentarci, ad essere nel nostro DNA. Noi abbiamo un altro DNA, noi abbiamo bisogno di fletterci al nuovo che avanza e ascoltare il grido d'allarme che dalla società arriva, di partecipazione e di responsabilità. Basta sostanzialmente con gli inciuci. Ecco, soprattutto nella prima fase, quali erano i candidati che trovavano attenzione anche da parte del vicepresidente Pittella? In queste ore, ad esempio, abbiamo raccolto più di un attestato di simpatia, ad esempio per il professore D'Andrea. Ecco, perché poi queste candidature alla fine sono scemate e poi c'è stata questa accelerazione delle ultime ore? Perché D'Andrea, che è persona che stimo tantissimo, di altissimo profilo e anche di un approccio moderato che in una società in evoluzione necessariamente deve trovare un momento di garanzia e di tranquillità, a quelle volte, a quel nome, io ritenevo e ritengo ancora, dovesse essere accompagnata un'azione di innovazione, di ricambio pur parziale, di ringiovanimento, voglio dire. Quindi il robustire, diciamo, anche con figure nuove, un'architettura interna al centro-sinistro che rischiava sostanzialmente invece di ripiegarsi al proprio interno e in una vecchia logica spartitoria. D'Andrea, ottima persona, come aduce, ottima persona, sicuramente ottimo candidato, presidente, ma non in una logica sostanzialmente tutta chiusa all'interno di poche stanze. Questa idea, questa ipotesi purtroppo è venuta meno, si è frantumata e non per mie mani e ci siamo ritrovati sostanzialmente a ragionare su una posizione di sintesi che potesse escludere una competizione democratica. A questo io non sono stato per cultura d'accordo, nonostante tutto non mi sono sottratto e ho rilanciato dicendo se proprio dobbiamo, dobbiamo giungere ad una sintesi avanzata come partito e come coalizione, io penso che dobbiamo immaginare nomi che sono sostanzialmente al di sopra di ogni possibilità di confronto o anche di scelta e lanciai l'ipotesi del rappresentante del Parlamento europeo, del vice ministro Bubbico, dello stesso Roberto Speranza, tutte ipotesi che sono sostanzialmente venute meno perché non sostenute da alcuno se non sostanzialmente nella teoria. La verità è che si voleva giungere ad un'altra soluzione di sintesi che mi vedeva sostanzialmente escluso e incluso in una primaria finta e in una logica sostanzialmente di palazzo. Ed ecco perché io sono in campo. Ecco, lei ci scuserà ma ancora magari più brevemente però qualche altra domanda gliela dobbiamo fare perché sicuramente gli ultimi giorni che ha vissuto soprattutto il Partito Democratico perché poi da dentro quel contenitore insomma sono venute fuori tutte le proposte le controproposte. Dicevo insomma questi sono temi che ancora fanno molto discutere poi sicuramente andremo anche nelle proposte diciamo programmatiche nella sua idea insomma di qual è la sua idea di centrosinistra ma soprattutto di Basilicata perché ricordiamo lei si candida alla guida della regione Basilicata. Lei ha citato Roberto Speranza proprio nelle ore successive alla definizione delle primarie abbiamo letto un comunicato stampa molto duro su Roberto Speranza. Ecco una sua diciamo riflessione sull'operato del segretario regionale ricordiamo che è anche capogruppo alla Camera dei Deputati quindi una figura davvero di primissimo piano della politica nazionale ecco vorremmo un suo parere magari anche più mitigato da qualche ora in più di sonno diciamo ecco e di riposo. e poi un'altra domanda gliela faremo su Vito De Filippo. No io non lo mitico il parere perché non riguarda la persona ci mancherebbe con la quale condivido rapporti ovviamente anche di amicizie oltre che di militanze. Il tema è che un segretario regionale che lancia le primarie aperte di coalizione non può all'ultimo giorno dopo che si è chiuso in una stanza con pochi eletti e dopo aver chiuso sostanzialmente tutti gli organigrammi possibili e immaginabili decidere che la sua candidatura unitaria è Piero Lacorazza. non c'è stata consultazione degli organismi, nessuna delibera degli organismi non c'è stata consultazione con il sottoscritto, con tanti amici del PD e non solo che vivono con me questa battaglia e che hanno dimostrato anche una sorta di insoddisfazione rispetto a questa posizione di speranza e anche di ribellione. Non si possono lanciare primarie aperte e poi dire no, abbiate pazienza, per decreto il candidato è questo, unitario. Chi lo ha scritto? Se lo deve sancire, lo sancisse la popolazione che va al voto, lui è un segretario regionale e dovrebbe avere una posizione terza se proprio dobbiamo stare alla democrazia. Mi sembra esattamente che io reagisca violentemente a questa azione che a mio giudizio ha poco di democratico. Vito De Filippo, noi come giornale l'abbiamo incontrato forse proprio la mattina successiva alla definizione delle primarie lui si avvicinò a noi e disse sono sereno nonostante tutto ma si avvertiva un forte nervosismo nonostante ricordiamo in una giornata molto bella poi ritorneremo ecco sui temi programmatici è sicuramente un passaggio sull'ottimo accordo di programma fatto con la San Benedetto a Vigianiello sicuramente lei insomma parlerà anche se brevemente perché tantissime sarebbero le cose ma sicuramente questo è un aspetto importante Vito De Filippo sereno però insomma un po' qualche ferita insomma si notava Il presidente De Filippo per me si è sostenuto la mia candidatura ancora non riesco a comprendere forse glielo chiederò dopo il 22 come mai non abbia nel giro di 12 ore o di 24 ore cambiato idea in quella famosa giornata in cui tutto si è deciso e forse i Lucani non hanno idea di che cosa si sia deciso io penso che abbia fatto al di là della mia persona diciamo un errore di valutazione per il portato innanzitutto di idee e per il lavoro che negli otto anni lui ha fatto e particolarmente perché lui è il rappresentante più avanzato di una cultura moderata che rischia di essere annientata e quella cultura moderata ha fatto la storia della Basilicata e se noi la mettessimo insieme con un'azione riformista socialdemocratica per capirci e anche liberale io penso che quella cultura o queste culture possono fare ancora la nuova Basilicata ha a mio giudizio sottovalutato il portato di questa scelta e credo che oltre la sua persona lascerà sul campo feriti e morti continuiamo con le curiosità ma chiaramente in ogni risposta vi sono anche utili vi sono anche messaggi vi sono anche riflessioni che possono ancora di più mettere, inquadrare insomma incorniciare questa situazione politica Gianni Pittella tutti sanno ecco lei parlava di Vito De Filippo come persona moderata parlava di Giambalo D'Andrea come persona moderata sicuramente Gianni Pittella di professione oltre ad essere vicepresidente del Parlamento europeo è sicuramente un pompiere ad honorem nel senso che credo che in ogni occasione non acceleri ma freni ecco cosa è successo perché sicuramente insomma il telefono tra Potenza e Bruxelles si sarà arroventato ad un certo punto quando Gianni ha detto a Marcello vabbè a questo punto andiamo avanti e che succede succede ma noi abbiamo spinto fino all'inverosimile sulle primarie aperte poi con responsabilità chiamati dal partito e dalla coalizione abbiamo tentato la strada della mediazione a cui siamo stati chiamati per una volta abbiamo chiesto nella strada della mediazione una sorta di come voglio dire di un visibile rinnovamento che fosse il portato della battaglia che noi stiamo conducendo e per motivare un pezzo della società lucana e un pezzo dell'elettorato a questo sostanzialmente ulteriore diriego noi non abbiamo esitato nel dire sostanzialmente trascorse 24 ore in un silenzio assordante come solo alcune stanze chiuse possono determinare abbiamo deciso con altrettanta responsabilità ma anche determinazione di andare avanti e di far scegliere alla società lucana e di dare alla società lucana un messaggio di libertà da determinati metodi in un approccio diverso che non deve riguardare attenzione solo il partito democratico per me innanzitutto quel partito ma l'intera coalizione centrosinistra e l'intero attenzione popolo lucano che guarda con grandissima attenzione a queste primarie oltre gli schieramenti e le provenienze individuali e noi non possiamo esattamente non recuperare questo significativo messaggio ecco questa è un po' la prima parte insomma ecco della intervista nella quale abbiamo cercato insomma di punteggiare un po' gli aspetti di come si è arrivato ad una scelta ora chiaramente dovremmo tentare di fare un passo avanti ed è probabilmente la parte nella quale il presidente Pittella più si appassionerà abbiamo detto sarà una campagna elettorale breve qualche settimana ricordiamo la complessità insomma del territorio lucano e quindi anche la difficoltà nel raggiungere un po' in tutti i paesi sappiamo di un camper che è stato già allestito probabilmente di notte perché voglio dire solo le notti sono rimaste rispetto insomma alla velocità ecco dei tempi ecco come 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 ha pensato di organizzare innanzitutto questa questa campagna per le primarie ma io tenterò di raggiungere con il camper tutte le piazze della della regione basicata tutti i comuni senza trascurarne uno avendo già a mio giudizio visitato i nostri municipi nell'ultimo anno e mezzo almeno tre volte per municipio sapendo che il contatto con gli amministratori locali quelli che stanno in trincea con i sindaci gli assessori i consiglieri con le associazioni e con i cittadini organizzati o individuali è estremamente importante se non essenziale per raccogliere esattamente il sentimento ascoltare la pancia che c'è nel territorio se non l'ascolti e ti chiudi difficilmente comprendi come migliorare la tua azione amministrativa per cui io inizierò come sto facendo continuerò anzi a viaggiare a girare a organizzarmi nelle piazze di tutte le grandi città per portare il nostro messaggio che è di programma di 4-5 punti importanti da fare e soprattutto un messaggio ed anche un messaggio di cambiamento di rotta di cambiamento di fase di rottura con procedure metodi e meccanismi che hanno caratterizzato la seconda repubblica ecco ci permetta di fare un passo indietro nell'organizzare questa intervista con Lucania TV e con l'Eco abbiamo messo a punto una serie di domande e quindi recuperiamo una domanda che probabilmente andava fatta qualche minuto fa il rapporto con Matera con la classe politica materana forse da lì sono giunte delle soddisfazioni insomma ecco all'operato del presidente Pittella da lì stima a Marcello Pittella devo dire l'idea sono molto soddisfatto del rapporto che sono in poco tempo poco più di un anno riuscito a costruire con tanti amministratori ma anche con tanti operatori del settore del turismo con tanti intellettuali con tante associazioni organizzate di volontariato con tanti imprenditori nel Materano e nel Metapontino abbiamo lavato moltissimo sul fronte dei Piot sul fronte dell'accordo quadro con le regioni Calabria e Puglia abbiamo lavorato moltissimo sulla stagione degli eventi abbiamo lavorato moltissimo su Matera di 2019 e abbiamo lavorato moltissimo anche sullo scorrimento delle graduatorie sui bandi Valbasento e Matera per le imprese abbiamo cercato di mettere in campo tutte le iniziative necessarie perché quel pezzo di territorio potesse rappresentare un valore aggiunto per la nostra regione soprattutto in alcuni ambiti di azione e io penso che questo rapporto di stima e se volete di collaborazione che c'è stato con gli amministratori e con gli altri pezzi della nostra società organizzata sia un valore aggiunto al di là di Marcello Pittel per la classe politica che attualmente governa la regione Basilicata e bisogna continuare su questo versante perché io sono convinto che la Basilicata può dire la sua in Italia e in Europa Allora veniamo un po' alla polpa insomma ecco alla proposta che il presidente Pittella farà nelle prossime settimane ai cittadini della Basilicata sempre un po' a caccia delle curiosità che poi sono anche sostanza allora cosa è successo nei minuti nelle ore successive alla ufficializzazione delle candidature sicuramente le saranno arrivate tante telefonate tanti sms immagino da parte un po' dei dirigenti semplici cittadini ecco della della Basilicata cosa le hanno chiesto in particolare quali punti probabilmente alcuni di questi punti poi avrà fatto sì che insomma potessero entrare insomma ecco nella proposta che sta per presentare già sta presentando in queste ore ai Lucani mi sono arrivati tantissimi messaggi tantissime mail e telefonate con due insomma dettanti due motivi sostanzialmente l'uno Marcello vai avanti non ti fermare l'altro Marcello ricordati dell'ambiente Marcello ricordati dell'università Marcello ricordati e hanno declinato ovviamente diecine di punti importanti tutti ovviamente importanti necessari che però ovviamente hanno hanno la necessità di essere ricondotti a sindesi in un programma che in cinque anni deve necessariamente realizzare diciamo le strategicità che noi riteniamo siano tali per la regione Basilicata e quindi è stata una sorta di festa tra virgolette nell'incitarmi ad andare avanti a non mollare a non farmi sentire solo attenzione e poi una grande festa di promozione un richiamo alla responsabilità una cittadinanza attiva diffusissima che non ha colore e che sostanzialmente ha tracciato i minuti e continua a farlo del dopo candidatura sono molto emozionato per questo sono molto insomma contento perché la politica non può essere e non deve essere cinismo calcolo deve essere innanzitutto passione e cuore e cervello ma non cinismo Presidente nell'immaginare nel descrivere i rappresentanti diciamo tra virgolette moderni del partito democratico cioè coloro i quali sono riusciti riescono più ad interpretare l'innovazione certamente Marcello Pittella certamente anche Piero Lacorazza che da presidente della provincia sicuramente ha lanciato tutta una serie tutta una programmazione ecco anche sull'ambiente e altro ecco le chiedo questo è un osso duro Piero Lacorazza da questo punto di vista nel senso che come maggiore competitor ha una persona che anche egli si è speso infatti molti sono a chiedere ma perché Lacorazza e Pittella sono divisi potrebbero potevano essere diciamo due espressioni formidabili insomma della modernità di questa nostra regione basilicata ma quando si è paventata l'ipotesi di un ticket Lacorazza Pittella diciamo non sono stato io a far saltare le sedie probabilmente qualche uno che oggi non si trova da questa parte ma si trova da quell'altra parte è un po' strano è un po' paradossale purtroppo è così Piero è un ragazzo bravo molto preparato capace forse non ha ancora tutta diciamo la esperienza che si guadagna sul campo dopo anni e anni di contatto con i cittadini di militanza anche ad un livello un po' inferiore io dico sempre che per fare il ministro bisogna aver fatto il sindaco o il consigliere comunale per fare il presidente della regione a mio giudizio ti devi candidare e prendere le preferenze da consigliere comunale per capire che cosa significa e comunque sotto questo aspetto nulla da dire a Piero ci mancherebbe è sicuramente un valore aggiunto per la società lucana io credo e questo senza polemica voglio sottolinearlo è che Piero che doveva e poteva essere il giovane innovatore diventa sostanzialmente il garante di un accordo di potere e colui il quale un po' forse più consumato di lui tra virgolette nell'attività politica e il sottoscritto diventa sostanzialmente l'antisistema io sono contento di essere l'antisistema e sono contento di sentirmi libero non soffocato e sono contento di poter guardare alla società lucana a 360 gradi senza aver chiuso accordi diciamo così in una stanza chiusa avendo riempito tutte le caselle io non so come reggerà diciamo quella aggregazione non lo so certo non potrà reggere secondo il mosaico che hanno costruito e di cui lui si è fatto garante questa è la cosa che a me dispiace ecco lei questa ultima dichiarazione fa eco un po' con una dichiarazione proprio di queste ore di D'Alema rispetto a Renzi D'Alema dice di Renzi ma tu vuoi fare la rivoluzione vuoi fare la riforma del partito del centro-sinistra dell'Italia però non la puoi fare con le baronesse con i conti nel senso che si nota a livello nazionale che tutti vogliono salire sul carro di Renzi così e poi una giunta tutta lucana si aspettava che la corrente il gruppo di Renzi per semplificare che Fausto De Maria ad esempio sindaco di Latronico fosse dalla sua parte in questa partita importante per la verità un po' me lo aspettavo voglio dire io sono abituato a guadagnarmi le cose non a farmele piovere dal cielo che ci sia un'azione nazionale portata avanti in occasione alla vigilia del congresso anche da un'area politica che mi vede protagonista mi sembra piuttosto nota che vi siano temi che viaggiano molto in parallelo e in vicinanza con quelli che lo stesso Renzi porta avanti mi sembra altrettanto noto mi sembrerebbe anche diciamo plausibile pensare che i renziani lucani possano condividere un programma e un'azione un approccio che è esattamente simile a livello nazionale a quello che loro stanno mettendo in campo e che è esattamente quello che io voglio mettere in campo per cui credo che ci siano diciamo così tutte le condizioni per sposare una battaglia insieme e si sta ovviamente lavorando perché il portato diciamo di idee anche di programmi anche di di novità che io da un lato i renziani dall'altro possono mettere in campo trovi più punti di convergenza e meno di discontinuità tra un attimo le chiederemo sulla plancia del camper i titoli dei punti ci stiamo girando intorno ma adesso ci arriviamo però un'altra domanda è davvero d'obbligo e riguarda il perché poi ci troviamo a questo punto e però insomma da lei vorrei un'analisi anche perché breve ma comunque un'analisi perché anche lei ad un certo punto è entrato in un frullatore che negli ultimi mesi poi ha portato all'assunzione da parte del del presidente De Filippo insomma della volontà di far cadere insomma ecco la legislatura forse questa domanda non gliel'ho mai fatta lei era è stato a favore di far decadere la legislatura quindi di andare ad elezioni anticipate e poi come ha vissuto e cosa cosa pensa ecco di questa fase non eccezionale del centro-sinistra insomma di questi ultimi mesi che però che però diciamolo per franchezza riguarda gli ultimi mesi nel senso che si sono scoperte del un malcostume negli ultimi mesi però insomma le situazioni erano ovviamente precedenti ma io penso che il presidente De Filippo non abbia fatto bene a dimettersi e lo conferma l'azione di oggi avrebbe avuto un senso quella di missione se egli stesso fosse stato diciamo un portatore di un grande cambiamento se il meccanismo questo è il ragionamento che faccio è il metodo che ha determinato una palude politica così come lui lo ha definito gli ultimi dieci anni non l'ultimo anno gli ultimi dieci anni se quel meccanismo ha determinato ciò tu non puoi rispondere alla caduta che tu hai determinato al consiglio regionale con un meccanismo identico perché vuol dire che esattamente vuoi tentare non tu persona in quel modo quella modalità vuoi tentare di cambiare tutto per non cambiare niente e noi non ce lo possiamo consentire io credo che ci sia stato un errore principe nella conduzione degli ultimi 15 anni che si è sostanziato in un combinato disposto di due macro aree politiche nel PD che è stato un po' il partito regione tra virgolette e meno il partito come io avrei gradito per la regione e che ha determinato quel combinato disposto tra due culture opposte un po' gli ismi e un po' la moderazione ha determinato esattamente la palude in cui ci siamo trovati e oggi da un lato ritroviamo quel tipo di meccanismo e quel tipo di palude che si torna a riproporre dall'altro chi ha svolto una funzione di cuscinetto anche se volete riformista più spinta in questi ultimi anni che oggi rompe gli indugi e fa un'operazione diversa perché quella porta esattamente alla morte della Basilica questo è il mio ragionamento queste sono le mie analisi e il centro-sinistra la politica in Basilicata il PD deve recuperare innanzitutto fiducia nella coscienza e nella partecipazione dei cittadini e lo fa esattamente facendo l'opposto di quello che ha fatto in questi ultimi anni Presidente mi faccia però fare una domanda a scomoda lei diciamo è dentro questo meccanismo insomma ecco non sappiamo se molti o pochi comunque magari ecco quelli più rumorosi mettiamola così le persone più rumorose e comunque evidenziano di una sua corresponsabilità in questo sistema come si difende rispetto a questa precisa valutazione con la stessa sincerità di sempre è vero e io non sono immune da responsabilità vuoi a pensare diciamo di alzare e puntare l'indice contro altri facendo fin da che uno non c'è mai stato ovviamente differenzierei un po' le responsabilità perché io faccio l'assessore da un anno e qualche mese penso che i risultati siano visibili sotto gli occhi di tutti poi sono i cittadini a giudicare quello che io però posso affermare è che nonostante fossi stato impegnato nella pubblica amministrazione per alcuni anni ho tentato sempre di portare avanti le mie idee soprattutto innovatrici e riformiste quanti disegni di legge e progetti di legge ancora fermi in discussione che oggi sono attualissimi quanti io ho fatto il mio dovere a volte ho toppato a volte ho sbagliato ho le mie responsabilità ma ho deciso esattamente non di espiarle ma di cambiare il corso della mia vita e da una vita comoda di uno che si poteva accomodare esattamente in una logica un poco più organizzata ho deciso di assumere di viaggiare in camper per una vita un po' più scomoda però è quella che fa chiarezza è quella che fa giustizia di un'azione di una passione di una cultura e se volete anche dell'amore per la propria terra le faccio una domanda più leggera ma spero ugualmente significativa lei ha dei tifosi no i pittelliani il pittellismo insomma e questi tifosi dicono ma come è possibile primo eletto alla regione e non lo fanno assessore diventa assessore giusto il tempo di prendere un po' in mano la situazione e succede quello che succede poi le elezioni anticipate vuole avere un ruolo di un certo tipo e tutto il mondo si mette contro Marcello Pittella ecco queste valutazioni le ha fatte ma io penso che abbiano timore di un modo diverso di fare politica io la dico per come la penso per la quantità e forse anche la qualità del lavoro che si mette in campo quello delle cose del fare e anche della capacità di relazioni umane personali oltre che politiche la politica non è un dare e avere la politica è contatto e disponibilità la politica è socializzare un errore la politica è riconoscere un errore è viverla con umiltà è mettersi a disposizione forse questo è un ingrediente già un po' scomodo per chi pensa che la politica si possa fare da dietro una scrivania Presidente prima di parlare di questa benedetta plancia una domanda che può essere un po' il baricentro di tanti altri ragionamenti e vorrei utilizzare l'esempio di Vigianello l'esempio che appare virtuoso e cioè di una risorsa naturale che viene messa a disposizione di una multinazionale abbiamo avuto modo di conoscere i dirigenti di questa di questa importante organizzazione di questa importante impresa ci appaiono anche persone molto serie il commendatore Zoppas insomma persone di un certo rilievo eppure si parla di circa 15 posti di lavoro un primo step poi insomma tutta una serie di situazioni però nonostante questo impegno perché la regione è entrata pesantemente insomma nel meccanismo c'è chi dice ecco qui ci vengono a fregare l'acqua e diciamo Vigianello che è un po' insomma la sintesi è un po' diciamo ci sono anche altri aspetti insomma indiretti no? pensiamo allo stesso petrolio pensiamo comunque ai macroattrattori ieri sera siamo stati a Nemoli eppure c'era chi diceva no ma io sono contro insomma che al lago Serino si fanno tutta una serie di situazioni perché il lago morirà perché non è questo il modo di utilizzare la natura ecco come si fa a tenere insieme voglio dire la necessità di un territorio che deve comunque crescere e allo stesso tempo deve essere comunque preservato perché presidente sul petrolio forse la regione basilicata qualche errore l'ha commesso se non ha il minimo è quello sulla comunicazione perché davvero non ci si capisce più nulla assolutamente sì e ci torno tra un attimo io penso che uno dei punti cardine della nostra azione amministrativa e anche del mio programma è rappresentato dai turismi e i turismi sono una scommessa che la basilicata la nostra regione ha recuperato nella sua programmazione nel piano turistico triennale anche in quello che si sta oggi ricompilando e un pezzo significativo nell'azione di promozione di sostegno a questa tematica sono proprio i grandi attrattori il lago Sirino non perde nessun'acqua assolutamente valorizza la sua natura e la valorizza preservandola ovviamente costruendo sull'acqua uno spettacolo che a Monteverde ha determinato migliaia migliaia e migliaia di presenze ogni anno e lo fa esattamente attraverso professionalità e competenza e mantenendo tutelando e migliorando integralmente il portato straordinario di bellezza che c'è lì quello è un grande attrattore se non lo mettiamo in un circuito con Maratea che è straordinariamente bella e con il Pollino io penso che possiamo fare di questa fascia meridionale esattamente un piccolo sistema turistico locale che è un valore aggiunto e la stessa cosa noi stiamo tentando di farla anche sull'imprenditoria la San Benedetto viene a Vigianello da anni già c'è questo progetto non finanziato nonostante le procedure recuperiamo il finanziamento e lo finanziamo penso che un pizzico di merito pure ce lo possiamo ascrivere alla nostra azione amministrativa e facciamo sì che in quell'area entroterra in difficoltà vittime di scosse telluriche voglio dire in cui l'ambiente fa la gran parte ma non può vivere soltanto di turismo e di ambiente un'azienda ecocompatibile attenzione là c'è la più spinta innovazione tecnologica d'Europa andate a guardare i progetti industriali e l'utilizzo dei macchinari quel tipo di iniziativa a mio giudizio rappresenta un fiore all'occhiello per la regione e per quel territorio è un'opportunità di lavoro diretto e indiretto se allora ai turismi aggiungiamo anche questo tipo di attività io credo che facciamo attenzione nella socializzazione nella condivisione con i territori diciamo di questa nostra azione un valore aggiunto sul petrolio noi abbiamo compiuto tantissimi errori e non voglio ascriverli alla mia persona ma lo deve consentire ma non perché sono un presuntoso anzi perché non ho responsabilità e penso che noi dobbiamo esattamente avere la forza per non piegarci alle compagnie petrolifere e per rinegoziare totalmente l'accordo con le compagnie petrolifere dalla A alla Z premiandosi i comuni e chiedendo ai comuni di spendere quelle risorse che per legge arrivano nelle proprie casse per progetti di ricaduta sociale e per nella rinegoziazione creare occupazione lavoro e non tanto diretto ma attraverso l'impegno che le compagnie petrolifere con le consorelle possono determinare in termini di sviluppo per il nostro territorio questo significa rinegoziare e anche acclarare che oltre quanto già sancito dall'intesa noi non andiamo in termini di estrazione abbiamo già detto di no ad altre estrazioni e oltre quel territorio non andremo per cui chiarezza nel rapporto con le compagnie petrolifere utilizzo su tutta la regione basilicata della risorsa economica per progetti speciali che sono universalmente orizzontalmente condivisi per una nostra regione utilizzo per ricaduta sociale delle risorse che vanno ai comuni e rinegoziazione nell'accordo di ricadute lavorative di occupazione imprentoriali con le compagnie petrolifere questo significa ripristinare un rapporto alla pari con le compagnie petrolifere altrimenti noi saremo soccombenti e in questo una triangolazione virtuosa con il governo nazionale che deve decidere sul memorandum e sulle grandi infrastrutture che cosa realmente vuole fare se finanziarli oppure no a costo di scendere in piazza e a costo di creare non rapporti sempre virtuosi con il governo nazionale ma deve pronunciarsi su questo deve essere al fianco della nostra regione e dei nostri cittadini così noi possiamo far diventare di quella risorsa la grande siamo scommesse e quindi la grande fortuna della nostra regione ci stiamo avviando alla fine di questa intervista chiaramente le domande sarebbero tante ma vedremo nel corso di queste settimane di poter porre ulteriormente delle sollecitazioni al presidente Pittella dicevamo del programma perché ovviamente lei nelle piazze insomma nei luoghi di incontro sicuramente parlerà della sua visione di Basilicata qualche tema già è stato sviluppato in estrema sintesi proprio per titoli come lei spesso è abituato a fare vogliamo evidenziare quali saranno i suoi cavalli di battaglia definiamoli così ma solo per titoli perché diventa complicato declinarli il primo punto è caratterizzato e rappresentato dal lavoro e il lavoro non può non fare il paio con l'inclusione sociale e quando parlo di inclusione sociale parlo dei poveri che nella nostra regione sono oltre il 30% e degli anziani e penso che sul lavoro noi dobbiamo declinare opportunità così come ce le indica l'Europa nella nuova programmazione 2014-2020 alta formazione per i giovani laureati e diplomati per trovare inclusione lavorativa in Italia e in Europa grande spin-off iniziative su spin-off tra università scuola e mondo imprenditoriale e giovane laureato o diplomato start-up perché l'Europa ci dice meno fondo perduto quasi niente fondo perduto più fondi ingentivanti all'occupazione autoimpresa per cui start-up per i giovani per l'autoimpresa e grandi finanziamenti sull'innovazione di processo di prodotto e sulla ricerca questa è la sfida che noi dobbiamo declinare sul lavoro sapendo che abbiamo un pezzo che riguarda il vasto precariato che pure può essere oggetto di negoziato col governo nazionale attraverso i fondi del petrolio e abbiamo esattamente un pezzo che oggi sostanzialmente non è né di qua né di là non ha né studio né esperienza lavorativa che pure va recuperato in una società civile ad una possibile occupazione penso che dobbiamo accompagnare questo primo punto con una forte sburocratizzazione della macchina amministrativa e con quel parola con quell'inglesismo che a me poco piace della governance tagliare rami secchi e riportare a sintesi la pletora amministrativa che sostanzialmente ha sempre più imbrigliato questa nostra iniziativa amministrativa e politica poi abbiamo ambiente tutela dell'ambiente e della salute umana e quando parlo dell'ambiente parlo delle due grandi risorse o tre grandi risorse petrolio con il gas acqua e natura e nella natura c'è anche diciamo così la possibilità di incastrare di inserire i turismi vari ma anche la possibilità di fare microgenerazione diffusa attraverso l'utilizzo proprio di un territorio e poi abbiamo inevitabilmente tutto il ventaglio dei turismi e abbiamo in ultimo in ultimo solo per elencare dei titoli una sanità che sia diciamo eccellenza nella parte ospedaliera e che sia altrettanto eccellenza sul territorio e nell'assistenza diciamo al cittadino anche essa improntata all'innovazione tecnologica perché oggi passa attraverso la qualità professionale quindi anche la formazione spinta alta dei nostri operatori attraverso un processo di umanizzazione dei nostri operatori ma anche attraverso una tecnologia avanzatissima e anche lì ci vuole una grande promozione diciamo anche a modi marketing voglio dire del brand e delle capacità e delle qualità che in questa regione noi oggettivamente abbiamo chiuderei dicendo che c'è un pezzo che riguarda la ricerca e questa nostra regione può diventare una piccola Silicon Valley perché noi non dobbiamo provarci perché noi non dobbiamo mettere in campo iniziative che all'estero in Europa hanno portato fortuna a quei territori che l'hanno messi in campo e noi possiamo emulare esattamente quelle esperienze e calarle per le nostre caratteristiche sapendo che molto dell'Europa spende e indirizza sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica e io penso che anche all'interno e chiudo su questa domanda all'interno della nostra programmazione troverà ancora spazio l'osservazione della terra l'automotive il biotech quindi l'agricoltura verde per capirci e tutte quelle azioni innovatrici che stanno sulla banda larga sulla banda ultra larga e che determinano diciamo così un accorciamento a modi infrastrutture immateriali attraverso infrastrutture immateriali delle grandi distanze che pure ci sono io penso che questi siano i punti essenziali di una regione che vuole farcela e che può ancora recitare un ruolo nel Mediterraneo e in Europa straordinario se si collega mettendo a valore esattamente le proprie peculiarità all'interno di una geografia meridionale nel rapporto con le altre regioni e facendo diventare questo luogo di 560.000 abitanti un grande hub un grande contenitore di eccellenze di intelligenze di laboriosità e anche di innovazione io penso che noi possiamo farcela con queste idee poche ma chiare e determinate ecco ancora tante altre sarebbero le domande più serie meno serie conoscendo il presidente Pittella mi veniva da chiedere ma il camper chi lo guiderà io sono convinto che lo guiderà molte volte anche lui stesso perché sicuramente ho magari qualche amico di nostra conoscenza ma qui poi potremmo ecco diciamo anche così fare qualche insomma domanda di alleggerimento ma manteniamo ovviamente un certo profilo così come chiaramente si può capire benissimo il presidente in questa fase gioca anche un po' a carte coperte mi verrebbe di chiedere ecco quali sindaci quali amministratori quale città quali paesi hanno maggiormente reagito positivamente alla sua proposta programmatica però probabilmente lei non me lo dirà perché nel momento in cui dovesse dire Senise non so Rionero o qualche che ne so Tursi chiaramente questi paesi verrebbero braccati io posso soltanto dire che la nostra forza sta nell'essere molti e anche radicati ramificati un esercito silenzioso esatto spalmati su tutto il territorio perché la condivisione generale che poi dà la forza e dà anche la somma non è il singolo l'individualità che pure è importante ma in questo caso diciamo la collettività che si muove concludendo ritiene che questa tra le tante campagne elettorali che ha svolto e la campagna elettorale forse di svolta insomma della sua carriera politica è anche forse quella più rischiosa perché voglio dire cosa accadrà dopo del 22 di settembre con il segretario regionale De Filippo perché rispetto alla prima parte dell'intervista se come sembra De Filippo andrà a fare il segretario regionale lei avrà nel vertice del suo partito forse non un carissimo amico ma insomma una persona che probabilmente insomma la marcherà ma io innanzitutto penso che De Filippo non mi è nemico ha fatto una scelta che io non ho condiviso ma non mi è nemico penso che la sua cultura non mi è nemica e penso che tanti insomma che si ritrovano nelle sue posizioni possono sostanzialmente anzi persuadere lo stesso De Filippo diciamo nel rivedere una sua posizione la verità è che io apprendo come lei che De Filippo sarà il segretario sempre per la solita logica per fortuna insomma un processo che hanno anche a livello nazionale tentato di stoppare non si può stoppare e ci sarà il congresso regionale per cui quello che la sfida che oggi mette in campo che è di spinta di innovazione di cambiamento a prescindere da chi la porta avanti oggi è Pittella domani saranno centomila con altri nomi non si può arrestare e dovranno tutti fare i conti esattamente con questa spinta innovatrice è un processo fisiologico inarrestabile ed irreversibile per cui diciamo la società innanzitutto deve comprendere che questo processo va guidato va seguito non va soltanto assecondato va anche maturato nella responsabilità e nell'impegno l'alternativa è che alcuni ti calano esattamente le soluzioni a tutto io a questo non ci posso stare si sente un brigante da questo punto di vista anche di più anche molto di più io non voglio essere diciamo così insomma un sovversivo rivoluzionario io dico soltanto che c'è un limite a tutto e c'è un c'è un punto poi diventa di rottura quando non si comprende che per ognuno e per ogni per ogni storia c'è diciamo un un tempo questo è il tempio di incrociare i nuovi desideri della società di tenerli nella unità sicuramente ma di tenerli in considerazione e di far sì che questa nuova società che pensa e parla un linguaggio diverso probabilmente dalla politica tradizionalmente intesa ha bisogno di essere ascoltata e ha bisogno di avere un protagonismo i territori le periferie di questa nostra regione hanno o non hanno bisogno di un protagonismo la stessa città di Matera la stessa città di Potenza hanno bisogno di recuperare una loro funzione come città guida di territori periferici vasti io penso di sì e chi aiuta ad accorciare queste distanze e a tenere insieme esattamente anche peculiarità tradizioni culture diverse se non una politica illuminata ma che recupera il sentimento dei cittadini diversamente è una politica poco illuminata che si chiude e decide le sorti di tutti e io credo che questo meccanismo abbia determinato il collasso della nostra regione e noi abbiamo bisogno di più merito e di più partecipazione bene chiudiamo qui speriamo di avere altri momenti per confrontarci con il presidente Pittella ricordiamo che questa intervista è frutto della collaborazione di Lucania TV e dell'Eco di Basilicata tanti auguri presidente grazie grazie per l'attenzione grazie per il tempo insomma io continuo a essere a disposizione per qualunque tipo di domanda